lo vedi sto quadro di starecchia no? eh si di signora lo vedo starecchia continua non ci posso fare niente grazie si diceva signora mi fai gli scherzi oh beh dove cazzo stiamo andando ma te lo dico vuole eh non so che cazzo dire è che dove cazzo siamo ho scritto progettile in piedi com'è comunque com'è che siamo finiti a Hogwarts? cazzo basta di nuovo buona coglione chi c'è ce l'ho lì manco dio che scherzo di merda questo Natale il film più figo di tutto l'anno ma ho perso l'ario 7 la vendetta di Michael Jackson